Ciao a tutti, io sono Mike e questo è il diretto continuato del video di prima in cui facevo un po' di training per il fuciliere adesso invece sono armato con un fucile di precisione, l'HTI e voglio fare una piccola sessione di tiro utilizzando la classe del cecchino prima di tutto bisogna trovare un posto in cui avere una buona visuale forse sopra questa roccia qui vediamo un po', si, qua va benissimo forse è ancora meglio ok, qua penso che sia perfetto, vediamo se allora ok 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 Grazie. 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 Qualche tipo di protezione Ma che da questa distanza non fa vedere Si sa se riesco No No, niente, da qua non ci riesco ad aprirla No, niente, da qua non ci riesco ad aprirla No Non ci riesco ad aprirla Sai No Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.